Dopo tanto tempo, dopo tanto che ci ho pensato, ho finalmente deciso in che team entrare, signori. Spettri o Ombra, questo è il vero dilemma. Ve lo dirò alla fine dell'episodio, lo vedrete alla fine dell'episodio. Adesso non ha importanza, dobbiamo andare a prendere i piani della sorveglianza in una missione segretissima. Una volta presi dovremo consegnarli al nostro team, quindi Spettri o Ombra. A seconda di quello che avrò scelto, ma lo vedrete più avanti nel video. Quindi raga andiamo, ci dirigiamo verso lo yacht, non so dove si trovino questi piani, li dobbiamo cercare, sono molto 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 segreti. Potrebbero essere sorvegliatissimi come... non sorvegliati, come penso che siano, però lasciamo perdere, proviamoci, ci dobbiamo riuscire, signori. Non so se sarà in safe lo yacht, non so se sarà in safe, ci dobbiamo anche sbrigare, signori, ci dobbiamo anche sbrigare. Con questo deltaplano faremo molto molto casino, dobbiamo stare molto molto attenti di quello che ci può accadere. Ok, noi subito, senza sapere né leggere né scrivere, ci prendiamo subito questa pistola e questo M4. Non so cosa fare... No, signori, c'è il miauscolo. Adesso non ha importanza il miauscolo. No. Il miauscolo. C'è solo un modo per sopravvivere. C'è solo un modo per sopravvivere. È l'unico che mi può salvare. Non abbiamo preso neanche i piani della sicurezza, ci dovremmo riuscire. Lo yacht non è in safe, ma noi ce la faremo. Dai. Dai, Fax, maisine. Dai, Fax. Maisine. Se vedete siamo in team con Fax, maisine, che ormai è la mia anima gemella. Io sono lui, lui è me. Siamo quasi la stessa persona. Fax, maisine, sinereo. Abbiamo lo stesso nome. Dentro abbiamo lo stesso nome. Si può dire che è come un fratello, Fax, maisine. È muto. Ancora non ci sarà la sua voce, ma presto la scopriremo. Dai, Fax, maisine. Vai. Sei tu adesso, l'unico che mi devi salvare. Verrai nel team con me perché ti farò prendere anche a te. Sarai uno dei migliori membri. Te lo assicuro. Dai, Fax, maisine. Che ce la facciamo? Andiamo a recuperarli. Andiamo a recuperare la scheda. Andiamo a recuperare i piani. Allora. Come potremmo fare per entrare? Andiamo a recuperare i piani. Andiamo a stare molto, molto attenti. Ok. Allora. Io prenderei la scheda e me ne andrei. Vai, Sine. Vai, Sine. Dai, Sine. Il tuo lavoro. Bravo, bravo. Bravo, Sine. Bravo, Fax, maisine. GG for the Fax, maisine. Dai. Dai, Fax, maisine. Dai, Fax, maisine. Grande. Ci droppa tutte le armi. Gliele facciamo un attimino droppare. E, signori, abbiamo tutto. Abbiamo tutto. Grazie, Fax, maisine. Sei stato un grande aiutante. Adesso, signori cattivi, andare a prendere i piani della sicurezza, signori. Non ci dobbiamo far scoprire. Anche se già ci siamo fatti scoprire, ma dobbiamo andare pianissimo. Perché se ci vedono siamo morti. C'ha il gatto. Quanto lo odio, quel gatto. Via, via, via. Nella scatola. Rubbiamo i piani della sicurezza. Ce ne dovremmo andare, ce ne dovremmo andare. Vattene, vattene. Let's go. Dobbiamo trovare solamente una cassetta della posta per spedirli. E sperare che ci danno l'ok per partecipare alla loro missione, per far parte del team. Andiamo. Sono ingasadissimo. È molto, molto bella questa cosa. E speriamo di farci anche una vittoria reale. Perché no? Scelgo il mio team e faccio vittoria reale. Ci sta. Inoltre, raga, scrivete nei miei commenti voi di che team farete parte. Se spettri o ombre. Vedete, abbiamo qua i piani della sicurezza. Eccoli qua, i piani della sicurezza. Perfetto, ci li fa anche vedere. Leggendari. Quelli qua vicino alle munizioni. È una munizione, ci dice. Però, va bene. Andiamo, signori. Allora. La safe si chiude dove devo andare io. Quindi molto, 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 molto bene. E almeno penso che lì ci sia una cassetta della posta. Non ne sono sicuro. Però noi ci speriamo. Quindi ci andiamo. La vedo dura. Fax My Cinema, mi dispiace, ma... Il tuo lavoro qui è finito. Grazie per essere un mistero d'aiuto per l'ennesima volta. Let's go! Ok, dobbiamo arrivare... Non lo so, vediamo a fattoria frenata di casa. Ce n'è qualcuna? Non ne ho idea. Andiamo subito, subito, subito. A vedere, dai. Questa è la prima di tante avventure del team. Di quando andrò a fare parte. Ok, ci sono già degli ostacoli. Sembra che già mi stiano mettendo alla prova. Ok, ha battuto uno. Morto. Perfetto. Let's go, let's go, let's go. Ok. Allora, fattoria frenetica. Non ne ho idea se ci possa essere una cassetta postale del mio team. Potrebbe esserci anche la cassetta postale del team opposto. Però a noi non demordiamo. Andiamo subito a vedere se c'è quella che ci serve a noi. Let's go, let's go. Allora, allora, allora. Vediamo, vediamo. Forse avrete già capito di che team andrò a far parte. Allora, passiamo qua nel grano così almeno non ci vede nessuno. Proviamo. Allora, allora, allora. Abbiamo il pump blu. Vediamo, vediamo. Scusa, fax maisine. Oh, c'è, 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 c'è. Signori, io farò parte del team Spettri. Lo so, non se lo aspettavano in molti. Anche perché io nella live volevo far parte del team Ombre. Però, 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 ci ho ragionato. Gli stili sono molto, molto più belli, secondo me, quelli bianchi. Infatti io prenderò di tutte le skin del Pass Battaglia gli stili bianchi. Almeno penso. Poi toccherò vedere se i miei gusti cambieranno in futuro. Non penso di cambiare team, ormai sono fede a questo team. Anche perché Bruce lo preferisco, adesso che mi ce l'ha fatto pensare così, preferisco nella sua versione bianca anche l'idroglicerina, come Sky, come Miauscolo, che è proprio bello nella sua versione bianca. E mi dà, non potevo non prenderlo bianco, signori. Infatti penso veramente di prendere tutti i bianchi. Adesso, signori, siamo in 26. Cerchiamo di portarci a casa una bella partita, con una bella vittoria reale per essere entrati nel team Ombre. Perché ormai è... No, Ombre, scusate, Spettri. Perché ormai è confermato. Sì, abbiamo depositato tutto quello che dobbiamo depositare. Penso di esserci entrato, ormai nel team di cui voglio far parte. Ripeto, scrivetemi voi anche nei commenti di che team farete parte, Spetti o Ombre. Inoltre, mi raccomando, seguitemi su Instagram e segnalate lo trattino basso Y. Ti... Sopporto a un creatore, RKG, trattino alto, team, le negozi oggetti, per sopportare a me e a tutto il team, signori. Mi raccomando, taggateci su Instagram. Che vi ripostiamo, signori. Mi fa molto, molto, molto piacere quando mi taggate su Instagram. Che vi riposto. Qua è ancora Natale. Non si sbrigano mai a togliere l'albero, ma penso che questo rimarrà per tutto l'anno, anche perché non mi dà fastidio. Sentire ogni tanto anche la musica di Natale mi fa tornare in mente i vecchi ricordi del capitolo 2, sempre, della season 1, dove con i 14 giorni di Fortnite o mezzo inverno, signori, ne facevamo di tutti i colori. Andiamo nella nostra base, perché l'agenzia adesso è diventata la nostra base. Ci sono molte basi dei team malvagi in questa mappa, però quelli che vediamo sono per lo più normali, quindi non spettri, ma ombre. Vedo già roba col Thompson, sento già gente col Thompson. Infatti, signori, entrerai da qui. Oh, let's go! Vai, anche 100 V-Bucks. Cavolo! Va bene, siamo morti, va bene, siamo morti. D-Bot ne sta incontrando sempre di meno, ma andiamo a vedere il nostro stile che abbiamo appena sbloccato. Let's go, signori. Vediamo se abbiamo sbloccato lo stile che desideravamo. Adesso vediamo anche cosa succede se sblocchiamo quello stile, i cambiamenti che ci sono se sblocchiamo quello stile e non quello ombre. Andiamo subito a vedere. Dai, torna alla lobby. 100 V-Bucks, stile Brutus, stile Backpack, signori. Ecco, eccoci qua, signori. Abbiamo cambiato ufficialmente stile, stile Spettri, anche per il Backpack. Eccolo qua. A vedere, agenti, 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 completo. Abbiamo completato finalmente il primo agente che è diventato un Brutus. Così, purtroppo, non possiamo più diventare quell'altro. Avrei voluto averli tutti e due. Tra sei giorni sbloccheremo Nitroclacerina. E niente, vi ho fatto vedere tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ah, un'ottima cosa. A seconda di quello che voi sceglierete, cambierà molto il tasso del gioco. Però una cosa che vi voglio dire, prima di salutarvi. I nostri eroi, barra cattivi, non cambieranno mai la loro personalità. Quindi anche se sono cattivi e voi scegliete lo stile buono, loro rimarranno sempre cattivi. Detto questo, io vi saluto. Ciao, Uts. Ciao, Uts.